Debora Davoglio, il prossimo incontro con Civitanova Marche, una squadra che comunque in classifica vede due sconfitte e una vittoria, come vi stiate preparando per questo incontro? Noi ci stiamo preparando soprattutto sia fisicamente ma anche di testa perché vogliamo questa vittoria e faremo di tutto comunque per avere questa vittoria in casa nostra davanti ai nostri tifosi perché siamo pronti sia tatticamente che psicologicamente per fare questo passo avanti e prendere questi due punti in classifica. L'umore quindi nello spogliatoio è alto e anche quindi la tensione, tensione che però durante la partita nella prima fase viene mantenuto ma cala nei secondi due quarti, che cosa accade? Sì, noi abbiamo fatto due quarti buoni e poi altri due quarti diciamo meno intensi come i primi due ed è proprio questo che vogliamo migliorare. Abbiamo sofferto un calo di concentrazione, loro hanno aumentato la pressione in difesa però diciamo come punto di partenza noi ora ci ispiriamo ai primi due quarti fatti nel match e speriamo di aumentarli a quattro quarti consecutivi in modo tale da ottenere finalmente dei risultati positivi. Nel tuo ruolo da player è fondamentale durante tutto l'arco della partita. Come affronterai tu personalmente questo match soprattutto nella gestione di sottocanestro in fase offensiva? Nel mio ruolo io cerco sempre di dare un'armonia di squadra in quanto il mio ruolo è quello di dare ritmi alla partita e i tempi di gioco.